La ricerca scientifica applicata allo sport, ovvero quello che fanno i campioni, lo puoi fare anche tu. Tutti i giorni alle 7.30 alle 20.30 cerchiamo di svelare quali sono i segreti per diventare più forti, più potenti, per avere la giusta energia dalla giusta nutrizione, poter avere tante tante possibili nuove soluzioni per allenarci meglio, essere più efficienti, poter avere i muscoli più belli ma anche dimagrire e perché no. E allora ogni giorno ti aspetto 7.30 la mattina o 20.30 la sera e se vuoi porta anche un amico. Ci vediamo lì, ciao!